È una bella emozione forte con questi tifosi, con i miei compagni, è davvero bello. Se l'aspettavi di sordere oggi? No, 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 non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me e cerco sempre di farmi trovare pronti in questa occasione. Senti, Antonio Conte, pochi giorni fa, dichiaro che non ci vuole coraggio per lanciare dei giorni, basta la sezione o quattro, tu non sei d'accordo? No, 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 io credo che comunque se un giovane è pronto, a me no, perché non voglio giocare.